Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Reflettori puntati su un'ex stella di Amici di Maria De Filippi, l'artista è stato costretto ad annullare le date del suo tour. Giorni di grandissima paura per il cantante, ecco di chi si tratta La notizia ha subito fatto il giro del web mettendo in allarme i fan dell'artista che subito hanno inviato una lunga serie di messaggi per capire cosa stesse succedendo e il perché date annullate all'improvviso Un annuncio che ha innescato la paura dei fan del cantante, il quale si è visto costretto ad un immediato ritiro dalle scene a seguito di alcune problematiche che lo riguardano in prima persona come lui stesso ha spiegato Ex di Amici si ritira dalle scene.Ebbene sì, nel mirino dell'attenzione del web troviamo un volto noto della musica italiana che ha visto nascere la sua carriera davanti le telecamere di Amici di Maria De Filippi Facciamo riferimento ad H7 Even che nel corso delle ultime ore si è visto costretto ad annunciare un momentaneo ritiro dalle scene Il messaggio del cantante è arrivato sui social dove è possibile leggere le seguenti parole, grazie per i vostri messaggi, il nostro tour estivo è stato qualcosa di incredibile, ogni data sold out e ovunque in tantissimi, però ogni tanto quando si pretende troppo da se stessi non si paga le conseguenze L'artista, successivamente, ha poi spiegato, dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono, in più in seguito a un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali, l'alternativa era fare le due dei team playback totale, ma come sapete i live sono per me la cosa più importante Non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così Vi voglio bene, Luca. Non posso parlare, devo. H7 Even, dunque, ha rivelato cosa sta succedendo dietro le quinte del suo tour che, a causa di un problema di salute è stato momentaneamente cancellato Infatti, H7 Even parlando ai propri fan ha così concluso il suo messaggio, non posso parlare, devo stare in silenzio per un po'. Volevo solo ringraziarvi per l'affetto e la vicinanza che state dimostrando nei miei confronti Prometto di recuperare al più presto possibile. Ora sono a riposo, cercando di tenere la voce quanto più riposata possibile. Vi mando tanti abbracci, ho una serie tv da finire. Vi voglio bene Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video